E quale intro migliore per incontrare Vincenzo Incenzo? Ciao a tutti voi, eccoci qua. La sfida era stimolante perché è uno spettacolo diverso, è uno spettacolo che attraversa una gamma di colori molto particolari, dall'ironia più spicciola al dramma più sentito, per cui era necessario trovare delle linee melodiche che in qualche modo potessero attraversare questi stati d'animo con molta semplicità e che fossero immediatamente di presa per la gente. Quindi siamo andati a cercare delle cose che toccassero delle corde particolari e quindi è venuta fuori una struttura melodica e armonica molto popolare, però allo stesso tempo, come dire, molto piena di emozione. Io sono molto contento di queste canzoni. Il fatto che sia uno spettacolo diverso, lo ripeto, non è un musical nell'accezione del termine, è più una commedia musicale, ma soprattutto è uno spettacolo che ha dei contenuti nuovi e secondo me anche urgenti. Si parla con il sorriso e con la lacrima di temi importanti come la genitorialità, l'adozione, l'identità di genere. Cioè sono temi che oggi molte volte vengono affrontati con frettolosità, molte volte con uno spirito polemico e forse mai con un'attenzione dovuta. Credo che questo spettacolo in qualche modo faccia questo, cioè faccia riflettere anche se con leggerezza su dei temi che sono i temi del nuovo millennio e che sono assolutamente da mettere sul tavolo delle nuove tematiche che dobbiamo andare ad affrontare. Max è straordinario perché come i grandi artisti arriva con il cuore dove magari la tecnica fa un passo indietro ma non gli è chiesto a lui il vocalizzo o l'artificio melodico esasperato quanto piuttosto veramente quello di tirar fuori se stesso e in questo lui è veramente straordinario anche se il pezzo lo improvvisa, lo rielabora a modo suo, come dire, ne viene fuori un umore così intenso, così vero che io non mi sento neanche di correggerlo in una fase di prove perché veramente la sua anima viene fuori intatta ed è quello che serve allo spettacolo. È giusto che sia così, insomma la gamma timbrica è molto diversa, così come lo sono le canzoni, si passa dalla ballata più pop a riferimenti agli anni 50, alla dance, all'house music era necessario esplorare un pochino tutto l'arsenale musicale italiano e non perché attraversiamo quasi alla fine un secolo di storia della canzone italiana e non e lo facciamo sempre con leggerezza però anche con dei riferimenti precisi proprio anche ai colori e alle armonie tipiche di quel periodo storico e ne viene fuori anche un piccolo viaggio musicale di questi cento anni, insomma. Sì, abbiamo parlato molto con Renato e le canzoni sono nate anche sull'onda di un copione che andava via via rimpolpandosi, insomma, per cui le canzoni seguono fedelmente anche se non in maniera didascalica lo sviluppo proprio degli snodi narrativi proprio della storia e sì, sicuramente insomma il rapporto stretto con il regista è stato fondamentale perché poi, insomma, lui a suggerire i temi e come dire, anche gli accenti polemici, ironici, drammatici dei personaggi quindi sicuramente è stato un rapporto molto utile fianco a fianco e poi, insomma, poi la canzone segue un percorso suo, astratto, se ne va, insomma, dalla didascalia fino a se stessa ma comunque sia, nasce dall'urgenza di quello che il testo della prosa dice Ma per non andare lontano nel tempo e per non, come dire, legare il termine diva a una identità di genere io dico diva è anche, forse nel nostro tempo, Michael Jackson è stato una grande diva perché diva non credo sia legato soltanto al femminile ma a un assoluto io lo vedo quasi come un termine neutro, come una parola greca, insomma, cioè un'anima, un angelo sceso sulla terra a deliziarci, indipendentemente dalla sua natura sessuale, culturale, religiosa, etnica cioè è un assoluto, il diva è un assoluto e Michael Jackson era sicuramente un assoluto Io vi invito veramente con calore perché è uno spettacolo urgente, io lo ripeto è uno spettacolo che esce dagli schemi e che parla di cose che ci appartengono con cui dobbiamo fare i conti e che ci offrono uno spaccato nuovo di tanti luoghi comuni che molte volte noi tendiamo così a immagazzinare in maniera passiva invece accendiamo un bel riflettore su questo spettacolo perché secondo me ne usciamo fuori anche con una convinzione diversa su tanti temi, oltre a divertirci chiaramente a cantare queste melodie che abbiamo scritto Un pezzo di Max Grazie 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 a tutti